Un calvario di quasi 48 ore, poi la morte. È la prima tragedia che finisce in procura e che coinvolge l'ospedale del mare, il nuovo presidio di Ponticelli, dove si è spento un odontoiatra napoletano cinquantenne, sposato e padre di un bambino di sette anni. La vicenda inizia alle quattro della notte tra domenica e lunedì, quando Maurizio Busciolano viene colto da una violentissima colica addominale. Dolori lancinanti che convincono la moglie a chiamare il 118. La prima tappa dell'ambulanza è il pronto soccorso del San Giovanni Bosco. Qui Maurizio viene sottoposto a diverse analisi. Dal sangue risultano valori alterati ed è uno di questi valori a indirizzare verso la diagnosi di pancreatite. Una patologia grave che, quando è in fase acuta, va trattata tempestivamente in modo adeguato. Ma il paziente, nonostante la terapia, continua a lamentare dolori intensi. Viene disposto così il ricovero. A San Giovanni Bosco però non ci sono posti e Maurizio viene trasportato all'ospedale del mare, ma la struttura non è preparata ad accogliere pazienti gravi in emergenza. Ricoverato in medicina generale, Maurizio ripete l'analisi, sempre in preda dolori violentissimi e addominali. La moglie parla con un medico, che dice che dovrà essere sottoposta a ulteriori esami e un'altra TAC, programmata però quasi 48 ore dopo. La situazione intanto peggiora e Maurizio muore intorno alle 12 e 30. A raccontare questi dettagli è la denuncia presentata dalla moglie del paziente, Daniela Pallone, che ascoltiamo. Io voglio soltanto sapere, sapere basta, cioè a me questo perché io sono tornata a casa e ho dovuto dire a un bimbo di 7 anni che il papà non c'era più e questa è stata la cosa più straziante e quel papà non ci sarà più, non ci sarà più ed era un papà brillante, era un papà che stava lì solo per il figlio e ancora mio figlio la sera quando si mette nel letto mi chiede mamma ma papà veramente non lo vedo più e io gli devo dire sì non lo vedrei più a mamma papà. L'avvocato Enrico Ricciuto spiega intanto che l'autopsia non è stata ancora eseguita ma che il magistrato sta indagando sui medici e sull'assistenza che è stata fornita all'uomo in ospedale. Troppo facile morire in un ospedale napoletano, questa vicenda chiede chiarezza e chiede verità, c'è bisogno di sapere verità, c'è bisogno di sapere perché e come è morto Maurizio Busciolano e soprattutto bisogna sapere se poteva essere evitato questo esito così tragico. Abbiamo piena fiducia della magistratura napoletana in ordine alla ricerca della verità però noi chiediamo anche al Ministro della Salute, facciamo appello e farà appello anche la famiglia, la signora, la vedova del signor Busciolano, fa appello al Ministro della Sanità affinché mandi gli ispettori per sapere cosa è accaduto a Maurizio Busciolano.